Grazie a Pavia 1 TV per aver accolto il mio invito per chiudere questa campagna elettorale che è stata una campagna elettorale difficile e intensa ma soprattutto ricca di emozioni perché abbiamo fatto tantissimi incontri nei quartieri dove abbiamo spiegato alla gente quello che era il nostro programma, le nostre proposte e la nostra voglia di amministrare con dialogo, impegno e passione la città. Una coalizione formata da 137 candidati, 6 liste, la coalizione più numerosa e più supportata e 67 donne in lista ma 67 donne in lista in quanto persone competenti e capaci nei loro temi di dove lavorano, dove operano e quindi veramente una soddisfazione per me avere un team così e soprattutto veramente una bella soddisfazione avere una campagna elettorale partecipata dove in tutti gli incontri abbiamo visto, siamo confrontati con tantissima gente che ci hanno detto quali erano le loro esigenze e molte di queste erano già scritte nel nostro programma perché conosciamo la città, io sono nato nei quartieri, sono nato politicamente facendo consigliere di quartiere, dopodiché ho fatto per 10 anni presidente del consiglio comunale e sono presente in città da 20 anni, da quando 18 anni sono stato eletto e quindi mi fa veramente piacere aver fatto questa campagna in mezzo alla gente non solo in via Emilia, dove abbiamo parlato di temi come la sicurezza portando il vice ministro dell'interno con delega alla sicurezza Mauri in piazza San Bovo, dove abbiamo incontrato i cittadini e ci siamo fatti così, ascolto delle problematiche che ci sono e abbiamo proposto le nostre proposte per risolverli, abbiamo portato il ministro della difesa dove anche lui abbiamo chiesto l'impegno per avere maggiori uomini delle forze dell'ordine e gli abbiamo fatto vedere quali sono le eccellenze militari e non solo della città. Abbiamo poi fatto una campagna elettorale proponendo temi importanti come quello di costruire un ufficio bandi che noi abbiamo nel programma, quello depositato a differenza di altri che poi magari ci hanno copiato l'idea, perché vogliamo attrarre i fondi dall'Europa perché adesso arriveranno con recovery fund diversi milioni di euro dall'Europa per i comuni, però non arriveranno a pioggia, arriveranno facendo progetti concreti di rilancio economico e di recupero di quello che è il patrimonio della città, anche degli edifici dismessi, edifici pubblici dismessi e non solo. Pensiamo all'ex caserma dove abbiamo tante idee di fare un centro di servizi dove portarci una nuova facoltà universitaria che potrebbe aiutare da fare fare da volano anche all'economia cittadina come già l'altra facoltà universitaria c'è e ha circa 300 immatricolazioni nuove ogni anno, quindi anche questo può aiutare l'economia a risorgere e noi vogliamo farlo con atti concreti, cioè creando da subito un ufficio che possa andare a prendere tutti i finanziamenti europei con progetti validi che verranno approvati. Ne abbiamo già dato dimostrazione, recuperando il teatro sociale, recuperando che verrà aperto l'anno prossimo, a fine lavori, con tutti i soldi che non arrivano da soldi delle casse comunali ma arrivano da finanziamenti esterni come Fondazione Cariplo e Selunga, abbiamo recuperato l'ex tribunale, abbiamo salvaguardato la compagnia Carabinieri negli anni che doveva scappare, quindi abbiamo già dimostrato di avere a temi i temi della sicurezza tra le nostre priorità. Ma soprattutto vogliamo dire una cosa cari concittadini, in questi tempi non è tempo di votare persone inesperte che possano arrivare in comune e dover fare scuola guida, questo perché non abbiamo tempo da perdere, perché i soldi dall'Europa arriveranno adesso, perché Voghera ha bisogno di ripartire post-covid adesso, non può aspettare persone che devono imparare dove è di sede il comune, come funziona, ma abbiamo bisogno di persone che conoscano già come funziona la macchina amministrativa. Io e la mia coalizione dal giorno dopo saremo in grado di amministrare la nostra città, perché siamo persone che ci impegniamo quotidianamente, 365 giorni all'anno, per farlo e noi ci mettiamo la faccia sempre, non abbiamo bisogno di leader nazionali che vengano a farci comizi e a prendere i voti per conto nostro. Noi siamo una coalizione di persone che ama Voghera e vive Voghera tutti i giorni. Poi per il resto cosa dirvi? Votateci perché siamo una coalizione che è sempre qua, non scappiamo, votateci perché siamo persone che siamo sempre tra la gente, non solo in campagna elettorale.